E' fattibile però eh, devi in salita, non devi farla saltare la? Adesso arrivo. Dai Luca, il massimo ti prendo qua, perché ti piace, perché ti piace? Guarda qui. 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 non è il buco bravo vieni lì a riprendervi lì che voglio vedere che effetto si fa la nuova dietro mi fa un effetto strano la ruota dietro quando salto lì nel filmato almeno vedo cosa succede non è moda, qui non la fai interire sì, certo la velocità è una velocità la velocità eh? è, è una velocità ma c'è una betta che viene centrata arrivo Grazie a tutti.